Il film dei grandi maestri è fondamentale per la storia del nostro cinema e Ferreri è stato un grandissimo maestro. È forse il regista più moderno, oggi a riguardarlo è il regista che tiene il confronto con i film anche di rivolta e di forza nuova, è un regista che ci può trasmettere ancora oggi delle cose sulla nostra società anche di oggi. Penso che restaurare l'illugienza sia dunque un inizio per restaurare tutti i film di Ferreri. Grazie.